Sì, pronto, 118 arezzo. Mi dica, la persona non è cosciente? Guardi, guardi se respira, guardi se il torace si solleva. Non si sta sollevando il torace? È in grado di iniziare un massaggio cardiaco? Colpito da un arresto cardiaco nell'orto è stato salvato grazie all'intervento di alcuni vicini che lo hanno prima massaggiato e poi defibrillato. È successo lo scorso martedì a Castiglion-Fibocchi dove un 58enne si è accasciato a terra a causa del malore. I vicini hanno così chiamato immediatamente il 118 che ha dato loro le istruzioni. Avete un defibrillatore lì in zona? Lo mandi a cercare, lo mandi a prendere. Attaccate immediatamente le piastre. Ha detto di scaricare, allontanatevi tutti, allontanatevi. L'uomo è stato defibrillato quattro volte e il suo cuore ha finalmente ripreso ritmo. All'arrivo dell'ambulanza il paziente è stato stabilizzato e trasportato in emodinamica. Adesso si trova ricoverato in rianimazione ad Arezzo e le sue condizioni sono decisamente migliorate. Era delle persone che avevano fatto per l'appunto il corso e sono loro che possono intervenire in modo tempestivo e immediato e fare veramente la differenza. Fare la differenza perché è dare tempo a noi da arrivare. Un'altra vita salvata grazie alla rete Arezzo Cuore. La provincia Retina è una delle più cardioprotette d'Italia grazie agli oltre 900 defibrillatori sparsi su tutto il territorio e le oltre 25.000 persone formate. Questi sono tutti i DAE che trovo nella zona. Per noi è fondamentale questo. Avere in mano la rete dei defibrillatori, sapere dove questi sono e chi sono le persone formate che noi possiamo contattare se avessimo necessità vuol dire vite salvate.